Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con Lord of the Fallen Allora, sono tornati indietro Dove è successo il bug che ero caduto di sotto E praticamente andando di là c'è un boss C'è un mini boss Quella fottutissima donna che fa quelle cose di ghiaccio Insomma, è tremenda Mi ha ammazzato E adesso, niente, registriamo E vi faccio vedere Praticamente Allora Andando ammazziamo questo Io per questi cazzi di lupo ancora non ho capito Allora, la cosa è bianca Quindi vuol dire che le mazze che stiamo usando Non andrebbero bene Perché se facciamo danni rossi Fa male Boh, io col fuoco ci ho provato Proviamo il castigo Che cazzo Voglio vedere se diventa rosso Niente E' sempre bianco Fuoco no, castigo no Cazzo, devo usare per farti a pezzi Sì Via, 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 via Sali Ok Ok Allora Allora Ok 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 vieni qua bastardo prima che arriva quell'altro è arrivato non prima che arriva quell'altro dai ma guarda quel figlio di puttana guarda 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 quel figlio di puttana c'è ma è avvelenato pure quello là non vuole andare a lui ok bastardo e muori cane rognoso ok dunque noi prima siamo caduti qua sotto guardate andando da qua sono arrivato all'altro lato del ponte eh eh sì sì tanto c'è la vestigia qua no siamo morti lo sapevo io io cazzo siamo morti lo sapevo io guarda tu perché è rimasto vivo quel bastardo più avanti comunque c'è il boss il mini boss ma porca di quella puttana tutto questo lo sapevo io questo vi dico io ci sono tante cose che devono aggiustare ma volendo io la potevo mettere il seme mi devo rifare tutta sta strada ma immaggia la troia ma va corre 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 un cazzino poi ci vogliono quattro colpi per ammazzarlo va va ma ne frega un cazzino ma vaffanculo ci ha preso al volo hai visto dov'era il seme ma non lo posso mettere il seme qua così qua come no ok riposo via via Grazie a tutti Ormai sei morto dove cazzo vai? Cioè ero rimasto bloccato Ero rimasto bloccato Ma non lo so manco io come ho fatto A pararglielo due volte Cioè ma prendete conto C'era il primo lupo davanti E lui loccava quello dietro Astardo amore Ok Recupera il vigore Allora là c'è il ponte Qua si scende Abbassiamo sti due con un colpo solo Ok Qui c'è il boss Però io adesso Prima di andare da lei Vediamo se c'è un altro seme Qualcosa Ok 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 Ok. Ah ok, qua si va in umbral, vedete qua siamo dalla parte dell'umbral e quindi mi vedo. Allora la c'è il boss, o mi faccio l'umbral e poi il boss, il fatto che poi che cazzo di giro dovrò fare? Io mocio soltanto due vite, mi dovrebbero bastare perché il mostro alla fine non è difficilissimo. No. 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 Bello. and'ya figlia di puttana ci ha ammazzato e cazzo levati dalle palle tu fuori vaffanculo ok missile della tristezza, una magia dal cazzo ma e cosa ok vediamo cosa abbiamo preso coltello va bene questo qua una magia questa armatura, armatura del guardiano congelamento 92 ah questo è 116 difesa fisica è 314 è 314 congelamento 92 35 e 9 sono 4 kg in meno io quasi quasi 116 92 io ci spacca nel culo e c'ho l'anello c'ho i due anelli ma 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 qua riescono i bastardi i lupi ma come cazzo escono? da sotto la neve escono ma cazzo è livello non mi sono fatto no 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 voglio vedere che non mi bastano per due eh che ti pareva lo sapevo io non manca molto non manca molto allora non cadi mi raccomando il cane il cane bastardo lupo non cane è una cosa incredibile questo te lo giuro su dio che è incredibile c'è tremendo porca di quella puttana intanto in umbra ci dovevamo andare ok questo e questo ok scudo piccolo frammento e pepite eh quindi qua siamo venuti solo per questo alzio di cose scendere 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 e come cazzo è? non mi dire che era dall'altro lato e io me sono sceso e non salgo più questo è l'inizio tira la leva che fa? ah ci apre ok si ma c'è un problema ragazzuoli e io mi devo prendere quello vabbè ci posso andare benissimo perché quello è un germoglio dal germoglio qua siamo all'inizio le vestigie poi ci ha aperto sta porta qua ma vediamo che cazzo era lui è che ha è è è è è è è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, c'è la scala. Va, non vedere che è all'inizio. Ma guarda un po', ma guarda un po'. Abbiamo fatto tutto il giro. Qua è dove siamo caduti. Ok, bene. Almeno ci abbiamo tolto lo spizio. Ok, possiamo ritornare tutto indietro. C'è rimasto solo il letto. Eh, solo sei rimasto. L'inizio. Eh, è la sopra. Che, mo' la sopra, mi manca soltanto di recuperare quell'oggetto. Abbiamo finito la... Sta zona è fatta. Questa zona è fatta, ragazzi. Eh, c'è solo qua che era sicuramente dall'altro lato. Io mi sono buttato come un coglione. e quindi... E quindi... E quindi, mo' mi tocca... Rifare tutto. Cioè, mi devo teletrasportare... al seme... che abbiamo salvato. 7,40. Sempre stamina. Vai, vai. Ok. Al germoglio. Bene. E dov'è? E' morto. Dobbiamo tornare là. E' un umbral. Allora... Ma va. Non ci credo. Non ci credo. Cioè, ci hanno seguito. Nell' umbral qua sotto. Li devo spingere di là. Maledetto cane di merda. E' venuto fino alla sotto a prendermi. Maledetto figlio di puttano. Yong. Hoia. Corri cazzo. Corri. Corri. Eh, e ora c'è sempre quello là che mi caga il cazzo. Eh, e abbiamo sbagliato di nuovo, perchè io praticamente mi devo. Sarà andato? Guarda il cane dove è rimasto. Figlio di puttana. Muore, bastardo. Allora, uno. E sennò che senso avrebbe? Beh, vengo qua. E dove è? E non ha senso questa cosa. Guarda, guarda. E come cazzo è allora? E non è così. Sì, però tu non mi puoi prendere qua dietro. Ragazzi, come cazzo è allora? No, io veramente sono scioccato. Eh, se mi butto qua non ci vado più io là dentro. Non ho la più pallida idea. A questo punto c'è proprio... Come cazzo si fa? Eccolo. Ah, mi butto. Pancura. Bellissimo eh. E adesso ci potenziamo. Ragazzi, qua abbiamo fatto tutto. A posto. Questa zona qua è fatta. Questa zona qua è fatta. ancora circa l'ставляzione a fortuna di hotel. Riposta. Vesticia. Allora il germoglio. No. Adesso dobbiamo andare al dillo. Anzi, veramente il nido viene prima questo. Dovremmo fare prima questa zona qua. I pochi che la cercano scoprono che le storie sulla porta lanterna, ora noto solo come la guardiana è dimenticata, sono confuso. Carlo Attalto, il nido del corpo. Argano di dedalo senza sole, l'abbiamo già fatto. Questa e questa. Però c'è pure quell'altro, quello là sotto, non ci dimentichiamo. E dove era? Già mi sono scordato veramente dove cazzo era la zona che dovevamo andare là sotto. Da qui era, o da l'argano. E i miniere. Sapete che non me lo ricordo. Non mi ricordo dove cazzo era quella, dove abbiamo avanzato quei tre. Vabbè, vabbè, poi me lo guarderò nel video e lo scopriremo. Allora, questo non c'è perché è là pure se n'è andato il conto. Oh, lei, vediamo se c'è la potenza. Sì. 85%, le cariche rimangono sempre sete. Bello, sanctified vessel, may Aureus' divina radiance flow through me and into you. Ja, ok. Poi. 6 ash, ne ho 3, devo vendere. Ah, miserabile. Oggetti particolari, strani, no, niente, eh. Ah, se, questa sicuramente a quell'altererà, ma sarà una cosa online. Credo. Ah. Aumenta i danni dalle armi a distanza illanciabili. No, ti ringrazio. Riduce il peso d'all'arma. Mazza del confesso. C'è sto qua. Sono uguale, ce l'ho tutte e due. Aumenta i danni dalle armi a volare. Ho avuto forza, forza. Danni dalle armi a distanza illanciabili. Danni dalle armi a distanza illanciabili. Riduce il peso dell'arma. Io ci ho provato, il peso dell'arma mi rimane sempre uguale. Questo attributo agilità. E' questo qua, il proposto. Ah, aumenta i danni da colpo terribile. No, niente. No, niente. E' tinte, saluti. Ok, quindi da questo non... Qua non abbiamo niente da che... Va bene, i semi mi potrei comprare. Lo fai vedere. Ah, ma vuoi dare le anime. Ah, ma vuoi dare le anime. Non vuole le cose. Vendi. Tieni. Ce l'ho doppia. Questa qua l'avete vista? E' il gorilla. E ne abbiamo di roba, eh. Vabbè. E basta. 800. Inserisci occhio Umbral. Non ne ho. Potenzia. Mi sa che già siamo a posto. Offre il ricordo. Ok, ciao. Vediamo il tizio qua. Niente. Però vediamo gli acquisti. Niente, c'è sempre la stessa cosa. con una croce sandanella aumenta i danni sacri e la difesa sacra va bene ok si stai bene quindi ragazzi il nido è quello la sopra calarattata calarattata ok quindi andando giù vado la sotto quindi calarattata questo è l'argano il feudo della malattia fatto nido del corvo quindi questo l'abbiamo fatto adesso dovremmo fare questo e quest'altra zona qua sotto che stavamo per fare più c'è questa qua ricordiamoci che c'è pure questo vediamo questo è calarattata che ancora dobbiamo fare mappa di calarattata ok c'è tutta l'armatura da difesa ghiaccio eppure qua interagisci no no va io lo vengo a fare sì ma top sono andato il ghiaccio eppure qua ogni volta mi scordo abbiamo aperto la scorciatoia per arrivare la eppure qua ogni volta devo aspettare questo cazzo di cosa eppure qua Sì. ok eh guardalo è qua mi vai a vedere che cazzo stai oh Allora qua è il semino e va bene Allora sto cazzo Ma ero scordato che Veni qua bene Astardi Niente Vaffanculo Ma tutto da capo Da quale cazzo di vestigio devo dire Sì ma io vorrei capire C'è una vestigio che è qua vicino Che ci faceva arrivare Ma quale cazzo era la miniera Eh sì vabbè Di nuovo da qua Allora No devo trovare la vestigio D'allargano Forse allargano la porta là Proprio vicino alla cosa Qua eccola qua Ah no Questa ancora la dovevo aprire Ma fa scolto No Devo ricordarmi dove cazzo era Nascorso troia Ma che cazzo fai Vabbè scappa Io voglio Io voglio solo trovare Quella focciuta strada Ah eccola 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 qua Ma l'avevo trovato D'allargano Correndo E si arriva qua No non lo metto Perché voglio andare a vedere Dove c'era molto Ma ce le sto dando Di ste cazzi stelle Allora Allora L'abbiamo preso Siamo saliti di là Abbiamo aperto la porta E abbiamo fatto tutto Quello che c'era da fare Ed ecco l'altra zona Ed ecco l'altra zona La profondità Della rivelazione Cioè con un salto Sono arrivato qua Scendi cazzo Qua si arrivava Sempre con un'umbrella E poi si riattivava questo E poi si riattivava questo Ecco che buio Ma una cazzo Ma una cazzo A parte se sta lampada Poteva fungere pure da torcia No Invece niente La vestigia No Accende fuoco Annotazione incoerente Sul diario Mappa Mappa Annotazione Annotazione Quindi questo appunto Che sono state realizzate Con una mano malferme Il testo Ci sono Tanti occhi E il disegno Si sono Però Non me lo faccio vedere Mappa Del pendio Delle campane Questa mappa Del feo Della mazzona Del freddo E quello là Sarà quello del corvo Carli alta In guardanza Del diario Ah eccola qua E questa qui sarà Mappa del dedalo Senza sole Mappa dei bassi fondi Carlat Vabbè Allora Cazzo Ne ho solo due Intanto Sono obbligato Sono obbligato Perché ragazzi miei Mo ci salutiamo E poi ci facciamo Sta zona qua Ok Siamo tutto a posto Mi devo cambiare L'armatura Per forza di cosa Perché mo Il ghiaccio Agli anelli Su pure Via E via Allora Rimetti Il carico massimo E rimetti Allora questo che ci faceva Inflige danni Da fuoco E avvezzamento Aggiuntivi Io gli metto questo Ok Poi Armatura 42 72 73 Pesa 10 8 8 8 8 L'almo Rimane Quello Questo qua Per forza Non glielo cambio L'armatura Arrimettiamo questa 333 Questa 86 92 10 1 Pulsione Incendio Metti questo Metti questo E facciamo così Ok Almeno Ci ripotenzia tutto Poi Ad inzo Ok Già È già Programmata Con l'aralto Va bene Ragazzuoli Ci siamo Alla prossima Saluto a tutti